Sonia ha appena rilasciato un aggiornamento firmware per la 7.4, che potrebbe sembrare un aggiornamento minore, ma in realtà non è così. Ciao a tutti, io sono Enrico, qui sul canale porto dei consigli per gestire meglio le vostre fotocamere. Se i contenuti che faccio vi possono piacere, vi invito a iscrivervi al canale spuntando la campanellina, ma soprattutto a commentare e a mettere like ai miei video, e a seguirmi anche sugli altri canali social come Instagram e TikTok, dove pubblico dei read più brevi. Con il firmware 5.0 per la 7.4, Sonia ha rilasciato un changelog fatto essenzialmente di 5 punti, che andiamo a vedere velocemente. Il primo punto riguarda il supporto di questa macchina fotografica alla scrittura di una firma digitale, che rientra nella soluzione di camera authenticity di Sony, che vedremo dopo. Poi altri punti invece sono sostanzialmente dei bug fix, che riguardano la soluzione ad alcuni problemi come frequenza di fotogrammi, movimento del pulsore quando si utilizzano alcune funzioni specifiche del menu. La stessa cosa alcuni bug relativi al pulsante Movie quando viene utilizzato nella modalità fotografica, e poi in generale c'è scritto che viene migliorata la stabilità della macchina fotografica. Quindi tutto sommato potrebbe sembrare un aggiornamento firmware minore, fatto soltanto di bug fixes. Ma nonostante questo però Sony lo ha nominato 5.0, quindi ha fatto un salto di generazione dal firmware 4.0 al 5.0. Quindi Sony lo considera un aggiornamento maggiore. Il motivo sta proprio nel primo bullet che vi ho letto, cioè il supporto alla scrittura di una firma digitale in macchina. Infatti questo è un punto molto importante, non per noi utenti magari amatoriali, ma soprattutto per agenzie di stampa, fotoreporter. È un lavoro molto ampio che Sony sta portando avanti da diversi anni e che adesso finalmente ha rilasciato. Per questo adesso ho deciso di dividere il video in due parti. Nella prima parte vi faccio vedere velocemente come fare l'aggiornamento del firmware, però questa volta tramite l'app Creators App per smartphone. Se invece vi interessa vedere come fare l'aggiornamento firmware con il classico metodo di trasferimento del firmware sulla scheda SD e poi l'aggiornamento in macchina, vi invito a vedere il video precedente che feci quando è uscito il firmware 4.0 dove lì vi ho fatto vedere passo passo come aggiornare la macchina tramite la scheda SD. Poi dopo invece voglio spendere due parole proprio per spiegare questa Camera Authenticity Solution di Sony. Ho preparato delle infografiche e vediamo perché è una soluzione molto ma molto importante e rivolta ovviamente a professionisti del settore. Ok adesso ci spostiamo quindi sullo smartphone e iniziamo a vedere come aggiornare il firmware della macchina. Ok siamo connessi con lo smartphone alla Sony A7 IV. Clicchiamo su aggiorna e si apre la pagina con l'ultimo aggiornamento disponibile 5.0 dove c'è anche il changelog. Andiamo su avanti, dobbiamo accettare il contratto e dobbiamo scaricare. Adesso praticamente sta scaricando il file. Ok ha quasi finito di scaricare i file, adesso li dovrà passare sulla fotocamera. Adesso dobbiamo passare il firmware scaricato sulla fotocamera. Sta trasferendo gli 800 mega scaricati sulla macchina fotografica così dopo dalla macchina fotografica possiamo lanciare l'aggiornamento del firmware. Ok il trasferimento è completato e adesso dobbiamo praticamente spostarci sulla macchina fotografica. Ok siamo nella fotocamera. Adesso nel menu vedete che c'è un puntino rosso vicino al menu impostazioni. dobbiamo scendere giù opzioni impostazioni perché è stato scaricato il nuovo firmware e infatti se andiamo su versione adesso dove c'è il pallino vediamo che dice il corpo è versione 4.0. Se premiamo è disponibile l'aggiornamento software. Clicchiamo, andiamo fine giù dove c'è tutto il disclaimer, esegui e come sempre in questo modo inizia l'aggiornamento software dove praticamente ci accorgiamo che la macchina sta facendo l'aggiornamento perché si illumina il led di status in basso a destra quello rosso. Come sempre come vi ho detto anche nell'altro video non vi spaventate che il display rimane nero e la macchina sembra non dare segni di vita perché finché lampeggia il led di status rosso vuol dire che l'aggiornamento è in progress. Man mano che l'aggiornamento andrà avanti il led lampeggerà sempre più velocemente. Ecco come vedete la macchina si è aggiornata, un messaggio di conferma ci dice che il corpo è aggiornato, infatti adesso se andiamo nelle stesse impostazioni quindi versione vedete che la versione del corpo è la 5.0. Dopo aver visto come aggiornare la Sony A7IV tramite app spegniamo qualche parola sulla camera authenticity solution di Sony. Ovviamente questa soluzione di Sony è una risposta al crescente successo dell'intelligenza artificiale generativa che ultimamente rende sempre più difficile distinguere un'immagine reale appunto da una fake o da una creata con l'intelligenza artificiale. La soluzione proposta da Sony è quella di riuscire a certificare la veridicità di un'immagine già in fase di scatto. Per proporre questa soluzione Sony sta lavorando da diversi anni sia con le agenzie di stampa che con diverse aziende come ad esempio Camera Beats, quella di Photo Mechanic, proprio per fare dei test e per appunto implementare il processo durante tutte le sue fasi. Ma vediamo diciamo a grandi linee come funziona questo processo. Il tutto parte già in fase di acquisizione dell'immagine. La macchina fotografica, le macchine fotografiche compatibili con questa tecnologia registrano i dati di profondità 3D dell'immagine e poi la macchina applica praticamente una firma digitale che viene memorizzata all'interno della macchina fotografica e poi nei metadati dell'immagine. Sony ha deciso, ha implementato il salvataggio della profondità tridimensionale dei dati perché a sua detta è praticamente una misura di sicurezza ulteriore rispetto alla sola firma digitale perché praticamente in questo modo la macchina registra proprio i dati di profondità 3D dello scatto e quindi grazie a questi dati si può appunto verificare che la foto sia stata fatta ad un soggetto reale e non sia invece stata creata in maniera bidimensionale come le immagini che sono generate appunto dall'intelligenza artificiale. Questa firma come ho detto viene incorporata nei metadati dell'immagine ed è praticamente leggibile da quei software che sono aderenti allo standard C2PA che è un po' lo standard di riferimento nell'ambito di questi progetti e che Sony ha deciso di implementare nella sua soluzione. Quindi questo standard assicura anche poi la registrazione nei metadati di tutte le fasi di sviluppo della foto e praticamente grazie all'acquisto di una licenza è possibile quindi utilizzare questa soluzione sia in fase di salvataggio e poi anche in fase da parte dall'esempio delle agenzie di stampo o anche di organi museali eccetera per verificare appunto l'autenticità di una foto. Ho parlato di licenza perché questa soluzione come ho detto all'inizio del video è una soluzione pensata espressamente e solamente per i professionisti quindi per i fotogiornalisti per i fotoreporter che hanno interesse a certificare l'autenticità dei propri scatti e poi per ad esempio le agenzie di stampa ma anche gli enti pubblici governativi statali che hanno interesse invece a verificare l'autenticità degli scatti che ricevono. Quindi è necessario acquistare da parte dei soggetti interessati una licenza rilasciata da Sony che è destinata appunto solo a questi soggetti professionisti che permette di attivare sia la firma digitale che viene salvata in macchina sia di accedere agli strumenti di verifica poi delle fotografie scattate e poi ovviamente ci vuole una macchina che supporti questa soluzione al momento sono supportate la Sony A7 IV con quest'ultimo aggiornamento firmware e poi sono supportate sia la Sony A9 III che la Sony A1 che l'A1 II. Spero che questo video vi sia stato utile sia per fare un ripasso sulle modalità di aggiornamento firmware delle nostre macchine fotografiche Sony ma anche per approfondire magari questa nuova tecnologia implementata da Sony per cui se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale a mettere un like a commentare e ci vediamo ai prossimi contenuti